Ancora una buona moneta questa sesta perché sono buone femmine anziane sul miglio, tutte femmine, attenzione. Su Ubertosa sale Gaetano Di Nardo, Tenax Club, molto bene nell'ultima, lei la più gettonata, in Salchi, Vincenzo D'Alessandro Junior. Allineamento che gradatamente va a completarsi, ha retrati il 7-8, unica è Ubertosa, leggermente Rosellina, via la macchina, e la spinge la macchina facile, ramada come da copione, e va facile al comando con Tenax Club che si sistema subito in seconda posizione. Si completa il lancio con Tenax che si affaccia, sarà un classico freeway per la leva di D'Alessandro, 13-8 a partire, e la Conway Hall gradatamente passa al comando. Quarto iniziale in 30, tranquillissimo, per linea esterna e unica del Rio, che si trascina uniti di poggio, al comando Tenax Club. Si completano i 600 iniziali in 45 spaccato, da 1.15 si viaggia, è ovvio. Si è formata una seconda fila a largo, con Tenax che ora può graduare con la sua leadership, e completa il mezzo miglia iniziale in un comodo 1.1, 16 di frazione. Cavale che affrontano il penultimo rettilineo, nessuno fa la prima mossa, tutto a vantaggio della leader che porta da parte sua il cronometro. 16.3 il chilometro, 500 alla meta, si affaccia uniti di poggio, Tenax al comando, si gira e si rigira, manini dolci. Retta d'arrivo con Tenax che è al comando, allunga, prende vantaggio, Tenax al comando, stop and go, stop and go. Secondo, un'ottima ramada, è sul palo, terza, unica del Rio. 1.59.8, 1.14.9, mi è sembrato il tintoretto Vincenzo D'Alessandro Junior oggi, altre che manini dolci, la pennellata, è andata al comando, ha fatto un po' di stop and go, ma addirittura sapete che ha fatto? Go, go, go. Per il secondo, tenete bene stretti i biglietti, c'è foto stretta, 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 ma molto stretta, 2.13 euro in chiusura per la Conway Hall dei fratellini d'Alessandro e di Luigi Farina.